Buon pomeriggio e ben trovati, edizione delle 14 del nostro telegiornale, lo avete sentito nei titoli. Questa mattina una telefonata anonima ai carabinieri su una macchina parcheggiata in via spiaggia delle Forche da diverso tempo. I carabinieri di Crotone si sono portati sul posto e hanno riscontrato solo che l'auto aveva l'assicurazione scaduta da quattro mesi. Anche noi siamo andati lì, ma vediamo il servizio. Siamo in via spiaggia delle Forche e dobbiamo dire che oggi la prudenza è il segnale più giusto e migliore che si può dare in un momento come questo. Perché una macchina ferma da diversi mesi, un cittadino ha dato un po' l'allarme, è una macchina che ha l'assicurazione scaduta. Noi non vi facciamo vedere le targhe perché è giusto così, ma chiaramente qui ci sono i carabinieri che stanno verificando il perché questa macchina è stata abbandonata in questo modo. C'è da dire che l'allarme che c'è in Italia preoccupa e dunque ecco perché bisogna essere prudenti ma nello stesso tempo attenti perché è necessario tenere tutto sotto controllo e da questo punto di vista dobbiamo dire che i carabinieri stanno facendo un lavoro attento proprio per riuscire a capire come mai c'è questa situazione e poi perché questa macchina viene scoperta dopo tanto tempo. Quindi è chiaro che non ci dobbiamo far prendere da allarmismi che in realtà non servono a niente ma dobbiamo avere fiducia nelle forze dell'ordine e nello stesso tempo dobbiamo capire che l'Italia in questo momento è in grande difficoltà e le difficoltà del nostro paese vengono proprio anche da situazioni che hanno colpito altre terre. Noi siamo convinti che non ci sarà niente però massima allerta, massima attenzione e soprattutto la necessità di tranquillizzare i cittadini. Fino a questo momento possiamo dire con molta serenità non è stato trovato ancora nulla ma ci sono delle indagini in corso per capire se questa macchina è stata posizionata in questa zona che tra l'altro dobbiamo dire è una zona centrale con qualche altro fine. Lo sapremo dopo. Restiamo ancora alla cronaca. La polizia ha arrestato a Roma tre persone ritenute elementi di spicco del clan di Andrangheta Palamara, scriva Mollica Morabito, sequestrati anche beni per 100 milioni. Ma vediamo il servizio. La polizia ha arrestato tre esponenti di vertice dell'Andrangheta calabrese che operavano nella provincia di Roma. Si tratta di appartenenti alle indrine Palamara, scriva Mollica Morabito che secondo gli investigatori avevano ramificati interessi criminali e imprenditoriali nella zona nord della provincia di Roma e nella capitale. Eseguite numerose perquisizioni in tutta Italia e sequestri di attività commerciali e imprenditoriali ed immobili per un valore di oltre 100 milioni di euro. Per la direzione distrettuale antimafia che ha coordinato le indagini, gli arrestati sono responsabili di intestazione fitizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Reati commessi secondo gli inquirenti per favorire l'Andrangheta operante in Calabria a Roma per il controllo delle attività illecite sul territorio. Tra le attività sequestrate dalla Polizia di Stato una gioielleria comproro, un'azienda di allevamento di bestiame, macellazioni carni e produzione di latticini, un negozio di ottica nonché numerosi conti correnti bancari e diversi mobili per un valore complessivo che supera gli oltre 100 milioni di euro. Un centinaio di dipendenti di Calabria Lavoro sta protestando davanti la sede dell'assessorato regionale a lavoro a Catanzaro rallentando il traffico in via Lucrezia della Valle. Siamo stanchi, hanno detto, di questa situazione di precariato in cui versiamo da 15 anni. I lavoratori chiedono un incontro con il presidente della regione Mario Liverio per raccontargli, dicono la verità sulle nostre condizioni, hanno aggiunto. I nostri soldi hanno spiegato, quelli destinati alle nostre retribuzioni sono sempre destinati a coprire le emergenze di altri. Il coordinamento regionale di Forza Italia critica quanto attuato nella seduta del Consiglio regionale del 7 gennaio scorso, quanto è stato messo in campo, dicono espressioni di logiche consociative e gattopardesche. Vediamo il servizio. Se il cambiamento tanto sbandierato viene espresso da ciò che abbiamo visto ieri in Consiglio regionale, allora la Calabria si rassegni. Per i prossimi anni sarà gestita dalle logiche consociative e gattopardesche che hanno impedito alla nostra regione di percorrere la strada del cambiamento. Lo afferma in una nota il coordinamento regionale di Forza Italia. Secondo l'organismo composto dalla coordinatrice Iole Santelli e dai vice Vanda Ferro, Nino Foti, Pino Galati e Roberto Chiuto, l'accordo sottobanco e trasversale tra PD e nuovo centrodestra certifica come l'unico ideale condiviso dal partito del governatore Oliverio e dalla stampella del governo Renzi sia quello della spartizione delle poltrone in spregio alle più elementari regole della democrazia rappresentativa del garbo istituzionale. La maggioranza, grazie al soccorso rosso prestato a NCD da cinque suoi consiglieri, ha eletto due vicepresidenti, uno che l'espettava e l'altro figura prevista dallo Statuto, proprio per garantire all'opposizione che lo ha scelto una scorrettezza a proprio uso e consumo. A uscire sconfitto dalla prima seduta ancora Forza Italia a Calabria, non è certo chi ambiva a ricoprire un incarico in seno all'ufficio di presidenza senza riuscirci a causa delle scorrettezze altrui. A uscire sconfitte sono le aspettative dei calabresi di un confronto trasparente in un consiglio regionale e in definitiva la democrazia stessa. Avevamo detto fin dall'inizio che avremmo fatto posizione in maniera aperta e responsabile, senza cercare accordi di sorta con chi che sia. Avevamo chiesto inoltre alla maggioranza di fare altrettanto, ma dobbiamo prendere atto che così non è. Quanto alle determinazioni assunte in aula dai consiglieri regionali, il coordinamento regionale di Forza Italia precisa che è esercizio di democrazia e di rispetto dei ruoli il fatto che il partito non si ingerisca nelle vicende dei gruppi consiglieri. La scelta dei componenti dell'ufficio di presidenza e dello stesso caporruppo, essendo direttamente legate al rapporto di fiducia che deve sossistere tra il gruppo e i suoi rappresentanti, non può essere ricondotta ad una questione di disciplina di partito. Tutte le altre ricostruzioni o le attribuzioni di responsabilità non sono altro che il frutto della volontà di mistificare i fatti o di distogliere dall'attenzione da quanto è avvenuto ieri a Palazzo Campanella. Parliamo ancora di Regione. A margine della prima seduta del Consiglio regionale, la nostra Emili Caccioro ha intervistato Ernesto Magorno sull'apertura con il nuovo centrodestra. Sentiamo. Un'apertura con il nuovo centrodestra arrivata nei giorni scorsi e a quanto pare c'è stato un accordo anche con il nuovo centrodestra per l'elezione del Presidente del Consiglio? Mi sapevo che c'è stato un grande Consiglio regionale questa sera. È la prima volta, immagino, da moltissime legislature che si elegge in prima battuta il Presidente del Consiglio regionale, Tonino Scalza, al quale vanno i miei auguri, le mie congratulazioni per la sua elezione e l'imbocca al lupo per il lavoro che farà. Quindi il dato che registro è un dato di una convulsione frequenza di una larga parte del Consiglio regionale che sceglie sotto l'aspetto istituzionale di stare insieme. Forza Italia ha parlato di trasversalismo. Ma insomma mi pare che Forza Italia oggi esce a pezzi da questo Consiglio regionale, una forza politica che si divide, che non è in grado di esprimere una propria candidatura né come Vicepresidente del Consiglio regionale né tanto meno come Segretario d'Aula. Quindi mi pare che quello che noi registriamo è un consolidamento delle forze del centro-sinistra, un consolidamento dell'azione di governo del Presidente Oliverio e una prospettiva di buon governo. Io registro oggi i due emendamenti proposti dal Presidente Oliverio. Il taglio delle spese, il segnale chiaro ai calabresi che si vuole andare da un'altra parte con le idee, con i progetti, con l'azione di governo è veramente chiaro. Alla fine non ha prevasso comunque il problema di Scalzo insomma che ha con la giustizia? Qui ragioniamo di politica, i problemi della giustizia vengono amministrati dai magistrati verso i quali noi abbiamo grande rispetto ma la politica è il primato di poter dare un grande contributo al governo. Tonino Scalzo è una persona per bene, sono convinto che darà un grande contributo alla nostra regione, all'interregione, da Presidente del Consiglio regionale così come l'ha già fatto da Vice Capogruppo del nostro partito nella passata legislatura. Il Presidente di Ance Calabria, Francesco Berne, esprime il pieno apprezzamento per la concretezza e la tempestività del primo atto varato dal nuovo Consiglio regionale. Il servizio. Esprimiamo il nostro pieno apprezzamento per la concretezza e la tempestività del primo atto varato dal nuovo Consiglio regionale. Il via libera alla prologa del piano casa recepisce un'espressa richiesta che come Ance Calabria rivolto al Presidente Oliverio. Il dialogo e il confronto costruttivo hanno iniziato a dare frutti è quanto afferma Francesco Berna, Presidente di Ance Calabria, l'Associazione dei Costruttori Edili, in relazione all'approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea di Palazzo Campanella su proposta del Governatore. Subito dopo le elezioni, dice Berna, avevamo rappresentato pubblicamente a Oliverio l'urgenza di alcuni atti fondamentali per far ripartire l'edilizia che occupa il 46% degli addetti del settore industria in Calabria. Evidentemente la nostra esigenza è stata compresa e tradotta tempestivamente in realtà. Questa è la strada giusta, adesso però indispensabile che con altrettanta rapidità vengano istruiti e licenziati altri provvedimenti che sono ineludibili e indifferibili. Su tutti la legge urbanistica che deve essere prorogata entro il prossimo 31 gennaio nella parte relativa alla scadenza dei piani regolatori comunali, in attesa di una rivisitazione complessiva. Occorre inoltre imprimere una svolta in termini di velocità della spesa, a cominciare dal POR 2007-2013 per evitare il disimpegno automatico di ingenti somme. Il Presidente di Ance Calabria auspica celerità nella formazione del Governo regionale. È molto importante che il Presidente Oliverio completi la sua squadra con un gruppo di personalità capaci e competenti che abbiano già dimostrato il loro valore nei rispettivi ambiti professionali e che siano scelti in base a ragione dell'esperienza maturata e non solo a criteri di ordine politico. La macchina amministrativa della Regione ha bisogno di ripartire al più presto, conclude Francesco Berna, ma solo il confronto tra Giunta e i vertici della burocrazia regionali, i corpi sociali intermedi, può innescare un processo virtuoso per l'economia e la società calabrese. L'emendamento approvato ai fini del contenimento della spesa non pregiudicherà l'attività lavorativa dei dipendenti del Consiglio regionale, né in termini di reddito né in termini di luogo presso il quale prestare la propria attività lavorativa. È quanto dichiarato in una nota dal Consigliere regionale del Partito Democratico Sebi Romeo, la riduzione delle strutture dirigenziali e la rideterminazione organizzativa dice stanno orientate a colpire sprechi, doppioni e privilegi. Chi in questione pensa di strumentalizzare i lavoratori perde tempo, dice Romeo, le procedure si svolgeranno nel rispetto dei dipendenti e delle loro rappresentanze, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tina De Raffaele invece, crotonese dell'anno, per l'attività che con impegno ha portato avanti nel corso del 2014, da quando ha fondato il gruppo, Crotone ci mette la faccia. Vediamo il servizio. Tina De Raffaele, crotonese dell'anno. Il 2014 ti ha visto protagonista con l'associazione Crotone ci mette la faccia, ma anche con il tuo coraggio. Sì, infatti io intanto ringrazio la redazione del Crotonese per questa bella sorpresa che mi ha fatto. Sono contenta perché evidentemente ho dato voce a chi la voce non ha il coraggio di metterla o perché purtroppo non ce l'ha fatta più e quindi non può metterla più. Sono felice per questo. Essere considerata la crotonese dell'anno significa anche grande attenzione e rispetto verso di te. Sì, non ti nascondo che questa cosa mi fa pure un po' paura perché è chiaro che poi ognuno si aspetta qualcosa di più e io non so se sono in grado di poterlo fare. Io ce la metterò tutta. Se sono stata premiata quest'anno perché vuol dire che qualcuno ha creduto in me e io non posso tradire questa fiducia che mi hanno dato. Hai una bella missione sulle spalle. Eh sì, proprio grande, pesante. Però ho le spalle larghe, penso di potercela fare. Tenendo conto che Crotone ci mette la faccia, ha raccolto tanti consensi, non solo nel mondo virtuale, significa che ti sei resa conto che devi seguire questa traccia? Sì, sicuramente è così. Non lo so se sono stata scelta per questo, non lo so se questa malattia mi è capitata per questo motivo. Però, come ho detto prima, se serve per portare avanti una battaglia, per portare avanti degli ideali, allora benvenga. Finché avrò forza. Nel momento in cui comunque io la forza non ce l'avevo più, non preoccupatevi perché ho un team alle spalle che è molto più forte e molto più coraggioso di me. Un'ultima domanda, Tina, per questa intervista da TG ed è questa. Un 2015 che ha bisogno di un risveglio sociale. Tu sei pronta? Sì, certo che sono pronta. Come disse Loredana, che è una componente del nostro team, Loredana Gallo, noi abbiamo gli striscioni 24 ore su 24. Ogni volta che c'è una battaglia da affrontare noi siamo pronti. Buon 2015. Grazie, anche a tutti voi. E sono tornati in aula ieri i difensori di Chiararizzo e Martino Politi, chiesto al gruppo di Reggio Calabria di abbandonare il rito abbreviato e di tornare al rito ordinario. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. In aula ieri mattina i difensori di Chiararizzo e Martino Politi hanno chiesto al gruppo di Reggio Calabria, Adriana Trapeni, di abbandonare il rito abbreviato e di tornare al rito ordinario. La richiesta è stata fatta, come detto, nel corso dell'udienza di ieri giovedì 8 gennaio, davanti al GUP nel processo abbreviato che vede imputati la moglie e il collaboratore dell'ex deputato di Forza Italia, Amedeo Matacena, condannato in via definitiva a tre anni per concorso esterno in associazione mafiosa ed attualmente a Dubai. Alla richiesta, secondo quanto si è preso, non si sono associati i difensori del terzo imputato del procedimento, Roberta Sacco, già segretaria dell'ex ministro dell'interno Claudio Scaiola, che è processato con rito ordinario insieme a Maria Grazia Fiordalisi, segretaria di Matacena. La richiesta dei difensori di Chiararizzo e di Martino Politi giunge dopo che il PM della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, nelle scorse udienze del processo abbreviato, aveva contestato l'aggravante mafiosa per gli imputati in relazione al presunto favoreggiamento a favore della latitanza di Matacena e del tentativo di schermatura dei beni di Matacena. Il giudice si è ritratto in Camera di consiglio per decidere sulla richiesta dei difensori. Nel giro di un paio d'ore il gruppo ha deciso che si proseguirà con il rito ordinario per il processo nei confronti di Chiararizzo e Martino Politi. Il giudice Adriana Trapani nel Tribunale di Reggio Calabria ha così accolto la richiesta dei legali dei due imputati nel processo con rito abbreviato per il presunto aiuto fornito all'armatore ed ex deputato di Forza Italia Matacena. La prima udienza del dibattimento davanti ai giudici del Tribunale di Reggio nei confronti della moglie e del collaboratore di Matacena è stata fissata per l'11 febbraio prossimo. Al momento non è prevista la riunificazione con il dibattimento già avviato nei confronti dell'ex ministro Claudio Scaiola e della segretaria di Matacena Fiordalisi. Prosegue in abbreviato davanti al gruppo invece il processo a carico di Roberta Sacco, già segretaria di Scaiola. Per lei la prossima udienza è stata fissata al 12 febbraio. E' panico fra gli abitanti di Donnici, frazione di Cosenza, numerosi effurti e rapine. Ha nominato la tranquillità della contrada, organizzata perciò una fiaccolata per chiedere l'intervento delle istituzioni. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Erano circa un centinaio, ma la determinazione è pari a quella di un esercito. Tanta è servita ai residenti di Donnici, frazioni alle porte di Cosenza, per dare vita ad una fiaccolata e chiedere al numero uno di Palazzo dei Bruzzi, il sindaco Mario Chiuto, maggiore sicurezza. Una protesta nata dopo che dal 24 dicembre scorso nella frazione si sono registrati numerosi furti in appartamento. L'episodio più grave, tre giorni fa, quando il tabaccaio ha subito una rapina a mano armata. In testa al gruppo il consigliere del Comune di Cosenza del PD e presidente di Anci Giovani Calabria, Marco Ambrogio, Donnici Sedoc, ed impegnato da tempo nella lotta per la tutela dei diritti dei residenti nelle contrade e frazioni di Cosenza. Una grande risposta con la fiaccolata organizzata dall'azione cattolica, dalla Chiesa, dalle associazioni di commercianti, ma anche dai singoli cittadini che hanno voluto prendere parte proprio per sentirsi anche partecipi di questa emergenza sociale. Come amministratori non abbiamo voluto far mancare il nostro apporto, anzi abbiamo partecipato in maniera personale. Io ieri ho richiesto, insieme ai colleghi del gruppo consigliare e ai colleghi, devo dire, di quasi tutto il consiglio comunale, una seduta ad hoc che si terrà a Donnici, nell'auditorium intitolato ad Alessandro Bozzo, con la presenza del prefetto e del questore, perché non si può più tergiversare sui temi così importanti quali la sicurezza. Siamo assai preoccupati, siamo assai preoccupati perché la comunità donnicese si sente mortificata. Troppi furti, troppe rapine, non possiamo abbassare la guardia. Gli amministratori, la politica, devono dare una risposta importante e devono darle insieme alle forze dell'ordine che sono sempre state vicine e che non faranno mancare anche questa volta il loro supporto e il loro apporto che sarà sicuramente fondamentale per tranquillizzare i cittadini. Insomma avviato un percorso interistituzionale al fine di garantire maggiore sicurezza e restituire serenità ai donnicesi. Abbiamo chiesto appunto la convocazione di questo consiglio proprio per far sentire ai cittadini locali che la presenza delle istituzioni siano esse politiche, siano esse appunto legate alle forze dell'ordine. Saranno loro poi a decidere, quindi quest'ora il prefetto, rafforzeranno sicuramente i controlli ma io preannuncio che chiederò appunto che vengano anche installate le telecamere di sicurezza anche sul territorio a sud della città. E voltiamo pagina con il presidente della Confcommercio di Crotone e abbiamo fatto il punto sull'andamento dei saldi di fine stagione. Vediamo il servizio. Alfio Pugliese, da pochissimi giorni anche a Crotone come in tutta Italia sono iniziati i saldi e noi come ogni anno ti chiediamo qual è in questo momento la situazione? L'andamento iniziale dei saldi come accade sempre di solito all'inizio abbiamo una partenza piuttosto positiva. Per avere una cognizione esatta di quello che sono appunto i saldi sull'aspetto economico dei nostri operatori, quindi dei nostri colleghi commercianti dobbiamo aspettare chiaramente alla fine del 28 di febbraio per capire qual è appunto poi sono stati i margini di guadagno e qual è stata la tendenza da parte dei consumatori. In linea generale comunque possiamo già anticipare che abbiamo una flessione di circa il 7% rispetto agli anni precedenti e del 20% rispetto al 2010. I settori un po' interessati chiaramente in questo periodo sono il testito, il settore calzaturiero che sono quelli più attenzionati da parte dei consumatori perché in questo periodo riescono a comprare abbigliamenti chiaramente griffati, abbigliamenti di qualità. Un'altra tendenza che c'è appunto stata ricepita da parte dei nostri stata indicata da parte dei nostri colleghi operatori commerciali è che appunto non c'è più quell'attenzione massima rispetto agli anni passati alle griffe ma c'è un'attenzione più alla qualità del prodotto stesso ed è là che le famiglie mediamente tendono ad acquistare con una spesa media di intorno ai 300 euro a famiglia. Ecco, l'andamento nazionale parla di un più 2% rispetto all'anno scorso chiaramente parliamo di un andamento nazionale che come diceva lei prima a Crotone non appartiene? No, praticamente questo più 2% come dicevo poco fa è l'andamento iniziale dei saldi cioè l'impatto iniziale del consumatore nei confronti di questa promozione all'inizio dell'anno quindi c'è questa promozione che avviene appunto il 3 di gennaio quest'anno oltretutto è stata anticipata appunto il 3 di gennaio e non le 5 per simulare ancora di più le famiglie, per simulare i consumatori ma anche perché il 3 di gennaio chiaramente capitava di sabato quindi c'è stata questa conferenza Stato-Regioni dove si è voluto strategicamente dietro richiesta da parte di ConfCommerce anticipare la data al posto del 5 che era lunedì quindi inizio settimana al 3 di gennaio che è sabato quindi è una giornata commercialmente favorevole. Il 2% significa chiaramente che con la disponibilità economica degli sipegni di fine mese e la disponibilità del residuo delle tredicesime con l'anticipo dei saldi significa che chiaramente c'è stato un impatto positivo all'acquisto dei beni che chiaramente poi dobbiamo valutare nella sua complessità il 28 di febbraio dove chiaramente si conclude la stagione autunno-inverno per quanto riguarda appunto la stagione commerciale. Ed ora una comunicazione di servizio perché i tecnici della Soacro informano la cittadinanza che per una improvvisa e copiosa perdita sulla rete idrica via Vittorio Veneto a Crotone per cause non prevedibili sono stati costretti ad interrompere a partire dalle 6 di oggi la distribuzione dell'acqua nelle seguenti zone della città zona Vescovatello, zona San Francesco, Rione Gesù, via Di Vittorio zona IMSS, via Giovanni Paolo II, via Cutro, via Mario Nicolette zone limitrofe, piazza Pitagora, piazza Poggio Reale, via Reggio Viale Regina Margherita, zona Marinello, zona Marina, via del Centrocittà zona Stazione delle Ferrovie. Si presume che la regolarità, dicono, della distribuzione idropotabile riprenda entro le 17 di questa sera. Nella puntata di oggi invece della rubrica curata da Antonio Stajano di Lannuoia abbiamo chiesto l'opinione della gente sull'attacco a Parigi alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo ma vediamo il servizio. Un avvenimento che ha sconvolto la Francia ma che ha sconvolto il mondo intero. Qual è lo stato d'animo? Cosa provano le persone ad aver visto quanto successo in Francia? E soprattutto l'Italia è un paese a rischio? Molta tristezza. Ma paura, incapacità nell'agire, questo è quello che io sto provando in questo momento. Penso che questa situazione non si risolvi molto facilmente. L'Italia è un paese a rischio? Penso di sì e siamo incapaci a reagire noi, credo. Stiamo vivendo questi momenti veramente intensamente. Io stamattina ho ricevuto anche su WhatsApp un messaggio dove mi chiedeva di divulgarlo per la pace del mondo e una matita. Sono momenti che viviamo tristemente perché la democrazia è la cosa più bella che ci può essere. Sicuramente si pensa anche il fatto che si può scherzare con determinate cose. Ancora forse in questi paesi dobbiamo evitare di scherzare. L'Italia è un paese non a rischio. Non a rischio perché io reputo che gli italiani a livello di controlli sono abbastanza preparati. Non che in Francia non siano molto preparati. Che cosa si prova, padre, ad ascoltare queste notizie? Come ha detto all'amico, ho una sensazione di sfiducia, di dismarrimento. Però poi vanno analizzate le cause, vengono da lontano le cause. Quando l'uomo reagisce così, perché è stato punzecchiato, è stato mortificato in qualcosa? Ascoltavo oggi la radio e diceva che queste reazioni sono l'apice di un cammino che dovrà esaurirsi, perché si vede una cecchiata da proposte democratiche, da proposte di coinvolgimento delle forze e quindi tendono a difendersi. Quindi è un fenomeno che va verso la fine e non è che all'inizio è un fenomeno che man mano che va avanti si ingegnerà. È grande tristezza perché le religioni non dovrebbero scatenare l'estremismo. Quindi non si tratta neanche di un discorso di religione, un discorso improprio. Quindi dare maggiore dignità anche al lavoro dei giornalisti. perché la satira riesce a colpire anche le persone più distratte tramite le vignette e la rappresentazione figurativa è anche molto importante. Quindi ridare maggiore dignità al lavoro dei giornalisti perché molti non lo considerano un lavoro. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Vi lascio in compagnia della pagina dedicata allo sport. Prosegue senza nessun stravolgimento la preparazione del crotone seguendo i canoni adottati dal mister, anche in virtù di nessun arrivo e nessuna partenza. Premesso che da oggi alla ripresa manca ancora del tempo e che il mercato è entrato nel vivo, ci preme evidenziare che sarebbe il caso di stringere i tempi in merito ad alcune scelte che sono nel mirino della compagine rosso-blu e non solo sul versante entrata, anche in direzione uscita. Questo per dare le giuste coordinate all'allenatore in vista della ripresa e consentire alla squadra di amalgamarsi in fretta. Del resto dopo questo mercato non ci saranno più scusanti e tantomeno ci sarà da aspettare l'inserimento di Tizio piuttosto che Caio, anche perché il crotone classifica alla mano e costretto ad inseguire. Non vogliamo insegnare il mestiere a nessuno, ma permettetici di fare il nostro e per quanto ci riguarda, prendendo in considerazione un proverbio di grande adeguatezza alla causa attuale del crotone che cita attestualmente chi a tempo non aspetti tempo, viene spontaneo ricordare che la squadra, così com'è, non ha molte chance di salvezza. Pertanto ai nostri microfoni Gianmarco Ferrari, subito dopo l'allenamento di ieri. Partiamo da questo Ferrari, un campionato che sta per iniziare, la prima importantissima con la Ternana, attualmente il vostro stato fisico di forma? No, secondo me siamo rientrati bene al rientro con gli allenamenti, ci stiamo allenando bene, stiamo eseguendo tutto quello che ci sta facendo fare il mister e lo stiamo facendo secondo me nel migliore dei modi per affrontare al meglio la gara di sabato prossimo. Anche se questo personalmente non ti riguarda, tu ritieni che ci saranno i nuovi acquisti, già con la Ternana, ci sarà la possibilità di vedere qualcosa di nuovo? Guarda, questo non ne ho la più paleta idea, quello che devono fare lo faranno i direttori e decideranno loro. Secondo te con i 21 punti che ci hanno contraddistinto nella prima parte del campionato, con la seconda che sta per iniziare, a che punto siamo? Saranno necessari altri 27-28 punti? Sì, sicuramente, dobbiamo evitare gli errori che abbiamo fatto nella prima parte del campionato e limitando questi già possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ma di questo se ne parla tra di voi? Di quello che purtroppo, come tu hai detto, ci costringe ad essere terzi ultimi in classifica? Ma è più un fattore di spazio. E a proposito, secondo te questa posizione per noi è meritata attualmente? Ma per il calcio espresso secondo me no, soltanto che gli errori ci hanno condannato e siamo lì, dobbiamo farci una ragione e riuscire ad uscirne nel girone di ritorno. Di questo, ritornando alla prima domanda, ne discutete? Certo, ne siamo tutti consapevoli e tutti con la stessa mentalità per raggiungere l'obiettivo. Siete in ritiro fino a sabato, poi probabilmente mezza giornata di riposo, c'è da concentrarsi al massimo in attesa della Ternana? Sì, bisogna concentrarci il giusto senza farsi troppe tensioni e robe varie, perché se no è peggio, avere la giusta decisione, concentrazione, ma nel momento giusto. Ternana ha 24 punti che vorrà sfruttare questa gara, ma d'altro canto anche noi dobbiamo essere pronti ad accorciare. Sì, sicuramente, sarà uno scontro diretto e sarà importante fare risultati. Sei gare di cui quattro esterne e due interne. Sì, dovremmo andare... Un inizio tremendo. Sicuramente, ma quello di certo non ci spaventa, anche perché abbiamo fatto più punti fuori che in casa, quindi andremo là a giocarcela con le nostre capacità. Mi è venuta in mente la seconda squadra, il Bologna! Sì, però viene in casa da noi e ce la giochiamo. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. 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 Grazie a tutti.